Le mie cose Le mie cose Pioge di pigmen No Come caspita faccio ad arrivare lassù No ragazzi tutte le mie cose ho perso Non stavo registrando Non ci posso credere No ma dai Ragazzi sono giocato qui, sono perduto tutte le mie cose Mi sono accorto adesso che non stavo registrando Che cretino che sono Vabbè Ora bisogna sentire di distruggere con la spawn velocemente Oddio mi sono già spavolati qua Siamo facili qui però eh Devo trovare un metodo Devo trovare assolutamente un metodo Quindi tutto lo costerebbe qualche roba Ok no ce lo devo lasciare Oh caspita Se mi faccio una statina io qui tipo Eh sotto però non c'è niente Guarda c'è pure il ghast Come faccio uccidere il ghast Boom Calmini 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 Ah Ah Vediamo un po' allora Sono tutti gli ammucchiati Non ho possibilità Cosa faccio? C'è pure un ghast lì fuori Allora Tutto si abbassa il volume Seconda cosa da fare Trovare un po' più piano Vediamo allora Ci sono pure dei pigmen Io devo raggiungere la sala del tesoro Che è quella lì In teoria Contanto che non c'è una buona idea Quella di attaccare così Non lo è? Devo fare qualcosa Ma cosa? Mangiarmi un maiale Che non so dove me lo sono trovato Ottimo Sono un casino Continuano a spawnare Sì qui Oh caspita un attimo Ok sono tornato Sono tutti spawnati Presto 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 No lo spawn lo lascio va Anzi lo chiudo Lo tolgo Sì Vabbè No 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 Sì E adesso però Nel fuoco Uh le sento altre Meno male Mi sa che c'è un altro spawn da qualche parte Perché se non c'è Sono morto Ci deve essere un altro spawn da qualche parte Perché mi serve Sì Questi sono spawn di Di cosa? Di cosa? Non lo capisco Non vedo C'è qualcosa dentro Eh? Sì Verfish No 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 Chiudi E questo che serve? Ah la luce Ma chi se ne frega della luce? Vabbè comunque Ho spaccato un unico spawn Di cose al mondo Sono un idiota Non si può più andare nell'Extreme Farm Ma si può essere più stupidi di così? Ok sto spaccando a caso Sono un idiota Sono un idiota Cosa posso fare? Ah c'è un altro Meno male Meno male Meno male Meno male è un cavolo C'è un altro da sotto Quella mi sembra che sia la stanza del tesoro Ma se sti qui stanno lì Cosa faccio io? Non so cosa fare Mi servirebbe un altro Vabbè torno a casa Ci vediamo dopo Velocemente Ok come faccio Come faccio Quanto non finisce il gas Faccio qualcosa Del tipo Due Sparami Gna Boom And shot Anche a te Tocca anche a voi Su No Possibilmente no Ah Scappa 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 Tutte le mie cose No Io vedo qualcosa La però Sì La spada almeno Sì 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 Chi se ne frega Della lacrima di gas Sì Sì Almeno la spada Ragazzi È un pezzo D'avventura Ragazzi Almeno Abbiamo Una spada Di diamante Non chiedo Altro io Una spada Di diamante Mi basta Ah eccolo Di rispondi Di altri Così Oh Vabbè ragazzi Allora Io qua non ho ancora Capito bene Dove si stava Sto cavolo Di tesoro Ma La metterla a casa Va Non è che Quello là Però Ci sono già andato Sì Ma Devo Tornare a controllare Magari c'è qualcosa Che non ho visto Oltre Silverfish Ecco Questa è la stanza Del tesoro Con delle Ragnatele Meraviglioso Beh almeno mi servono Per fare l'arco E questo Lo rompo io No Come cosa Lo rompo? No Credo che era Questa la stanza Quindi Quindi mi torno a casa Velocemente Molto Velocemente E mi faccio un arco Molto velocemente E No 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 Ti supplico No Come faccio Come faccio Vedere Fa vedere Dov'è Caspita Oh Sono pure Due Ma almeno Mi sparassero Contro di me Stanno sparando A casa Tutti qui Da Che schifo Di mira Che avete Adesso Si ammazzano Fra di loro Che schifo Ecco Si stanno ammazzando Fra di loro Appunto Mi serve un arco Per forza Io Cascata Come cavolo Faccio Tornarci E tu Levati No No Per favore Non di nuovo No Vai Veloce Veloce Ah Fuoco Non fermarti A mangiare Vai 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 No 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 Basta Basta Ho perso Tutto Ragazzi Per fortuna Ci sono rimaste Queste due cose Qua in croce Sta per meglio Che niente Ok Via un po' Shiri Ricomincia Da zero Ma un piccone Ce l'ho Però almeno Che niente Spare di diamante Me la posso fare Mi servirà Per forza Un arco Per andare nel nether La prossima volta Poi dovrò Cercare Il mio altro ferro Poi dovrò Sistemare La mia coltivazione E molte altre cose Magari Cisci a salire Sarebbe una conquista Ok Adesso Vado a prendere Levate Roscia Continuo A spawnare Ragni Ma sì Dai Perché no Bruttone Sono arrivato Al centro Del formicaio Ragazzi Sotto terra Intendo Adesso cercherò Molto ferro Ci vediamo dopo Ok Allora Ho recuperato Più ferro Possibile Quattro Adesso Torno a casa Il prossimo obiettivo Sarà quello Di fare La La casa Poi Continuerò A cercare Di uccidere Quei blades Trovare Un metodo Finalmente È cresciuto qualcosa Trovare un metodo Sicuro Per Andare lì E non farsi uccidere Del ghast Quello Lo potete trovare Anche adesso Fuori del video Ma sì Dai Propriamente Qui dentro Questo 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 E Tutto Tengo Soltanto Questo Qui E magari Una spadina Di pietra Avviso che ci sono Mettito qui Il ferro Sto facendo Una specie Di suicidio Sì è vero Non so bene Neanch'io Perché Ma magari Un piccone Sì Devo spaccare Lo spawn Di ghast Se spacco Se spacco Quello Poi Ce l'ho fatta No Qui Ecco Sarà difficile Però Prima È giusto Che ci sono E faccio L'arco Che poi Tengo qui Non ho capito Bene Neanch'io Ma Sono arrivato Sopra lo spawn Veloce Sì Sì Ragazzi Sì Ce l'ho fatta Questo Determina La mia libertà Ragazzi Ce l'ho fatta Ok va bene Ragazzi Ve lo dico Mentre stavo Camminando di qua Mi ha spavolato Un gas Davanti E ho dovuto Mettere un attimo In pacifica L'ho fatto Spavolare Poi L'ho rimesso Subito In faccia E mi sono rimesso A fare sto robo Mi dispiace Per aver dovuto Usare questa roba qui Ma ragazzi Se no Non ce l'avremo Non avrei avuto Minime possibilità Di fare questa cosa Quindi ci siamo riusciti Questo Determine Fa sì Che noi Da oggi Riusciremo A venire qua Tutte le volte Possibili Forse Sopravvivendo Io posso Ancora sistemare La strada Perché fa schifo Molto Molto Schifo Vabbè Lo farò In futuro In molto futuro Quindi Adesso mi uccido Dovevo morire Comunque Vabbè Chi se ne frega Quindi Delle prossime volte Poi potremo Venire qua E uccidere Quei blades Forse In teoria Si spawnano Comunque Siamo perdendo I blades Ma dov'è Stanza del tesoro Qui Uh L'ho trovata Non ci posso credere Questa Tesoro Ok Cosa Caspita Oh Caspita C'era Dei Atenetini Non l'avevo Vista Come facciamo A vedere Vabbè Abbiamo Alla Tutta La stanza Del tesoro Dopo Questi Incassinamenti Cosmici Infatti Adesso Me lo tengo Io Uh Esploso Però Purtroppo Il tesoro Ha fatto Una brutta Fine E anche io Quindi Questo è Rant farm Dal prossimo episodio Cominceremo a fare Tipo la casa E ritornare Lì più spesso Per uccidere I blades Quindi Questa Rant farm Quell'albero Enorme Noi ci vediamo Nel prossimo episodio E scusatemi ancora Per aver messo la pacifica 30 secondi